Le recenti gossip news ci hanno messo a conoscenza della data del debutto di Uomini e Donne, lunedì 11 settembre. La data scelta è però stata modificata con una nuova. Lo show di Maria Di Filippi non tornerà sul piccolo schermo lo stesso giorno di altri programmi di punta del palinsesto Mediaset. I fan del dating show dovranno aspettare un'altra settimana in tv per vedere i nuovi tronisti all'opera. Uomini e Donne andrà infatti in onda lunedì 18 settembre, al consueto orario delle 14.45. L'attesa è stata dunque prolungata rispetto alle anticipazioni. La redazione si farà perdonare?